A distanza di un paio di settimane dall'autografo negato, Alessandra Amoroso è finita di nuovo al centro di una polemica in seguito d'uno scambio di battute fatto con un fan durante Battiti Live a Bari. Nel video incriminato che potete vedere qua sotto si sente un uomo chiedere a Alessandra. Dai per cortesia, una foto insieme? La risposta della cantante non è tardata ad arrivare, ora me la faccio con lei, una ragazza, ndr, calma. Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia. Il tono dal video sembra scherzoso, ma a quanto pare l'uomo non sembrerebbe aver colto dell'ironia dalle parole di Alessandra Amoroso dato che ha scritto, nega sempre foto e autografi. Sono rimasto deluso dal suo comportamento. A chi fra i commenti ha provato a scrivergli, ragazzi io c'ero stava scherzando la foto l'ha fatta con tutti. L'uomo ha replicato, assolutamente no c'ero anche io ovviamente e il video l'ho fatto io. Alessandra Amoroso risponderà, Alessandra Amoroso, questo odio non fa bene. In merito all'autografo negato la vincitrice di Amici ha spiegato quello che è successo. Come già si capiva dal filmato, Alessandra non voleva fare parzialità. Da qui la decisione di non fare nessun autografo, ma limitarsi a scambiare chiacchiere veloci mentre stava camminando. Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Team Summer Eats. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell'artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l'amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente che mi ha sostenuta in questi anni che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre, fate entrare l'amore. Tutto quest'odio che state facendo girare non fa bene, credetemi. Me l'ha detto.